Presciatavola Consiglia, ristorante Fior di Loto Salve, oggi siamo a Puegnago del Garda, nel cuore della Valtenesi, al ristorante Fior di Loto, il paradiso della carne. Sulle colline moreniche, a due passi dal lago di Garda, il ristorante Fior di Loto è immerso in un verdeggiante giardino. All'interno, davanti al grande camino, fa bella mostra la vetrina delle carni, non per niente qui la carne di qualità, proveniente da tutto il mondo, è di casa. L'ampio salone, sob ed elegante, è curato in ogni dettaglio. Alle pareti, quadri e mensole decorative ospitano vasi, oggetti della tradizione e bottiglie in un'atmosfera armonica ed avvolgente. Gli ospiti troveranno un'agiata distribuzione dei tavoli, nei quali si possono accomodare circa 80 persone. Un'area è interamente dedicata alla cantina, che ospita circa 80 etichette, con un occhio di riguardo per i vini del territorio e lombardi. Molto suggestivo il contesto naturale, proprio ai piedi dei laghetti di Sovenigo, sulle colline di Puegnago. Ristorante Fior di Loto, Puegnago del Garda, via dei Laghi 8, telefono a 030 20 72 459 .